Ciao Vasco, come stai? Tutto a posto? Sì, tutto bene. Che significava? Che sono rimasti in macchina le due focacce. Abbiamo preso una focaccia e un arancino. No, c'era l'acqua in macchina. Abbiamo una mia mamma. C'era la mia mamma. È un problema, non lo vedo. T'es energía oltre, la mia mamma. Un problema. La mia mamma. È che, non fare qui. Non voglio? Non voglio? Non voglio, non voglio. Non voglio. Non voglio. Non voglio. Non voglio un po slash artista. forse perché mi crederevo mi dice così mi dice così mi dice così forse perché guarda che c'è un po' là ti sto facendo sempre a subito ascolta io l'avevo chiesto l'autorizzazione come si chiama? o Giulio! la mia il ponieważ no no ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.